Una 0-0 nella gara di ritorno che premia il 3-2 per il Montecatini nel match d'andata. Forse è una partita a ritmi troppo lenti. Sinceramente è una partita importante, anche noi ci troviamo a passare il turno, ma non era così determinante che ai giocatori si è fatto pressione perché cercassero di fare qualsiasi cosa che portere a casa il risultato. È stata una partita giocata alla pari, abbastanza corretta, tutto sommato noi siamo soddisfatti. Usciamo dalla Coppa a testa alta contro una nobile che fa parte del nostro girone. Il nostro obiettivo sinceramente sarebbe quella di battere il Montecatini il 23 settembre, cioè praticamente fra due domeniche. Ecco, allora sì, lì i nostri giocatori avranno l'ordine, l'input di fare di tutto per cercare di portare a casa i tre punti. Oggi era importante, ma non così determinante. E poi in più c'era un grande caldo. Sì, era importante fare risultato positivo dopo la sconfitta di domenica, una brutta sconfitta, un botto scivolone, dobbiamo dimenticare subito. È stata una partita abbastanza, come hai detto tu, giocata a ritmi blandi, anche loro avevano parecchie riserve in campo, noi abbiamo fatto qualche cambio per far giocare chi gioca meno e alla fine il 0-0 ha premiato noi. Sì, il passato del turno ci può dare una mano, però quello che conta è il campionato e non abbiamo iniziato molto bene, quindi domenica dobbiamo rifarci con un risultato positivo.